Vinti e tutto il resto. Mi devo curare la madonna. Oppure io. Qualcosa mi dice che è meglio che ci curiamo tutti, pigliamo adrenalina su adrenalina. Ecco il defibrillatore, vista la situazione. Esatto. Perché abbiamo dei defibrillatori? Non so quanto tempo avremo di pigliare il defibrillatore. Ma sento, questi sono tutti zaini bruttissimi. Ma infatti, no, sono taniche di benzina. No, ragazzi, praticamente noi adesso non abbiamo seguito la storia, ma in teoria è quello della barca, ci ha detto. Dovete andare laggiù, pigliarmi le taniche di benzina e poi vi aspetterò qua nel fiume e voi tornate. E' confesso, guarda che bell'armeria che c'è qua. Vede M16. C'è anche un po' tattico, eh. Ragazzi, qualcuno vuole le pillole qua per terra, sono le pilloline. Ando io allora. Vai. Aspetta, sì. Qualcuno ha qualche braccino che vuole tirare fuori? No, già l'ho ammazzata. Ti fai così. Ragazzi, no, ma lei... No, ma non lo voglio, non lo voglio ancora. Abbiamo tutte le armi. Ragazzi, io ti consiglio solo una cosa, visto che quando dobbiamo stare molto vicini, limita al massimo l'uso del corpo a corpo, perché sennò rischi di fare veramente un sacco di danni. Eh, questo io magari prendo una pistola per entrare a queste cose. Sì. Esatto, lo faccio anche io, infatti, una doppia pistola. Faccelo qua. Ma questo dormiva, non era morto. Ma fai io prenderla doppia? Devi che cacchi due volte. La prendi due volte sulla pistola e ti viene doppia. Ma Grig, il diktato ci sei? No. Credo che si è staccato. Mi sembra strano che non ci ha salutato. Ma infatti no, ma come mi si è andato a prendere qualcosa di più? Questa che ha salutato, non l'ho sentito, lei era totalmente concentrata. No, l'avrei sentito, lei. No, l'avremmo sentito in quattro, figurati. No, infatti. Sono uno smoker. Ho preso. Ok, ora ragazzi, ecco, ora immaginatevi che questo, quello che vediamo adesso è niente. Troppo poco, non vedremo veramente. Comunque ragazzi, è bellissima che noi abbiamo gli altri dei conti, un comando, ora veramente, sappia. Perché? Ah, il M16. Come esi, come mod, madonna. Oh, che lui ha le mod con te l'armista, le skin, le skin, tutto. O . Cosa do con le spalle? A espalHO. Guarda, la sua probabilità. Fa qualcuno ancora un ha ultimo lavoro, il papino. Ed io? O nuovo dopo d UNDEUltimo domen Ok ragazzi qua senti sentiti che andiamo a tenere perché è madonna ok rimaniamo vicini, ma vicini vuol dire veramente vado avanti io però sta qui vicino stiamo? stanna, rolla dietro, dietro, dietro esci da lì no ragazzi da forza ragazzi senti, lancia la python va bene? quando ha finita rolla siamo? si vai alti via corrette eh non si può correre nella foto corretta in senso seguita a rex e corretta andiamo lì esatto che questo si corre comunque non se non vuoi come ricordo più a premia in vero più piano e infatti è notato ok ci siete sul tubo tutti sull'olio è più veloce ora si sa più ora anche se non è vero l'olio e' un certo tranquillo dai dai forza andiamo forza e c'è qualcosa no no il tiro con te ok ok vivere non ci inseguiranno da solo con la ponte luci spente no no che è pure accede per massimo quando dice non mi pare si dovrebbe essere riparati dalla pioggia ha mai dominato qua ah ci sono i bilionati dei barboni dei biglietti di porto della pericola un po' anche un tank si non senti che trema tu no sta salendo scendiamo scendiamo ecco la ecco la arriva dietro arriva guardatevi ok 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 aia 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 non è proprio scendendo un po' che culo cosa ho ammazzato culo da qua cosa stiamo da qua raga ah ok ignoto ragazze ragazze ah ok ci piace sul tetto sul tetto guardo un occhio guardo un occhio occhio ragazze per i quali witch il nuovo pulineranno ma saranno andando al riparo no e tu lo vado sul container ciao ok occhi su tutto dalla cia merio andiamo andiamo ordi mi sono spenta ok ok peter uuuu aiuto che hanno appena spuntato preso speter andata peter up via via vai 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 faccio una porta chiusa e rius vieni sono bloccato sono bloccato ho lanciato una foto perciò ti copro delta vai vai sei caduto? sei caduto? dai delta ti copro sei caduto? sei caduto ultimo vi aspetto dai c'è un posto per salire qua dovete tornare indietro dovete fare tutto tornare indietro ragazzi poi c'è un medikit per grievous ah ok che ansia guarda come è morto bene guarda come è morto bene come è morto su quella che sembra una trappola di soul è morto ok è morto ma che cazzino comunque peccato che l'hanno preso in piena anche lui stesso ah si ce l'ho, eccolo qua che come faccio è usato sugli altri è col destro, il tasto destro ah ok non va qua la porta è chiusa ah con la rotella a che non è andato? ok va mi cura e poi mi tiene un cazzotto bellezza ciao ciao perché fa sotto un teoria da te no 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 primus, sali, sale, non fa niente tanto le fa tutto il giro quello dove la witch? e non lo so, sento un'istante 2 quando vi accennava una sorta grigl sei sceso appena morto ma che non c'è stato l'abbiamo ucciso ma quindi qua la rara se seguite in italiano è molto vicino il caraviglia di una passarella del tavolo di 4 da qua ok il medico il medico visto per me quando lo subito salito subito spaz 12 però no aspettate no ho sbagliato ehm lo prendo lo stesso lo prendo lo stesso si si vai 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 ehm no lo uso dopo il kidnade adesso mi sparo un po' di adrenalina basta faccio un fuori armi se volete allora raga potremmo andare in quella stanza non in quella stanza non so se possiamo trovare occhio guarda parliamo dentro la casa no vanna cappa non sento neanche più la witch andiamo? no continuiamo a muoverci si cara non c'era nulla e non mi ricordo qua ti confondo o sei di qui? si vai 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 a continuare a muoversi ora sento la witch vuoi dire che è molto vicino a qui si ah no 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 tu la devi seamli tu qua sopra vabbè non è che un thunther ah ragazzi io e no griwus sta scappando qualcuno che va a pigliare griwus sta scappando ahhh come v locally dimostra siamo sopra si si vitt bom e prego rio a reddito un po allora io posso passare 4 4 per favore la peggioramento punto qua non è venuto ma non è venuto non c'è un po' l'uomo o ecco che domanda stato sentito saldittato grazie mi giuro che sto messo malissimo ma non stai con un indietro no ma è stato molto fantastico visto volare tutte due punti ragazzi qui qui o armi che volano ma dobbiamo attaccato a cui c'è prima io lo so non è una stessa non è un meccanico solo e ci sono i fucili qua nella casetta di legno casa di legno uso questo bravissimo con la pioggia ti serve fuoco, fucile di precisione ah però è rapido è rapido quindi posso darlo anche da saldo ah ok occhio il cat dove è? eccola dietro 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 aia aia uuuu mi ha preso un boom mi ha preso un boom mi ha preso che non mi passa l'effetto ma tanto ok l'ho ammazzato io per proteggerti ok si è calmato ragazzi avviamoci l'ho ammazzato un po' vede qui vediamo cerchiamo di stare sulle passarelle che più pochino d'accordo ok 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 hai visto la gambina che non c'ero per la tua vita non si può saltare controllate nelle stanze ragazze c'è qualcosa a parte uno zombie attaccare al grigio arrivando a questo in stanza in stanza in stanza di lato di lato bravo zombie ma sono tutte stanze vuote non ho niente sono di conti un po' di conto un po' di conto e sono senza colpi scopo senza colpi ragazzi guarda sotto c'è una stanza chiusa può essere ricercato diamo sotto loro ok bravo non c'è niente non c'è credo si antirolorifici buona grande bravo per abbassare per questo tipo ancora una qualcuno si mandano di prendere la teoria di cincinistro noi dovremmo andare per dirlo qua ecco vedo dove andare muo ma dentro non lo so dovremmo andare seguire la strada tutta la calma quindi dritti 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 quindi entriamo nel caso libero si prendiamo nel caso troviamo qualcosa troviamo qualcosa troviamo qualcosa troviamo qualcosa davvero si 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 c'è la calma è vero davvero l'ultima questa era per l'ultimo va bene ah è vero ah spera che apriamiamoci per chiudere l'ultimo è stato un po' di amore maledetto potevamo curarci prima e poi approfittare dopo maledetto è ma tanto che non abbiamo l'ultimo eh ma dopo no di c'era sopra ero in attesa ah ma tu dici che rispondano si avevo rispondato ah scusa non lo so eh no e per questo è una trucchetta che ho imparato infatti tutti si curavano prima che poi chiudiamo la porta completamente cosa non lo so non lo so vedi perchè poi ero spottato non ci sono proprio diverse non ci sono oh ma non ci sono non lo scherzare sono le armadiette dove sono le armadiette dove sono le armadiette poi ne voglio ancora e non so due no non ci stanno altri dobbò starci altri due qua se ma io ma io non ho vita praticamente anche lui non hai vita ma capiamo ma io non ho vita